si sente? che bello vaglione? va bene così? si sono dall'alto vi guardo dall'alto com'è? state bene? guardiamo un po' tutti dall'alto sono uscito in modalità presente con la stata immobile quando è che è arrivato? mi tocca uscire di casa per avere una connessione decente che cazzo gli ultimi video che ho fatto porca troia erano tutti da un'ora un'ora e mezza marcolino si vede che ha sentito argomenti che non gli andavano o l'algoritmo algo sto coglione ha rotto i coglioni veramente tagliato 20 minuti 40 minuti minca non c'ho la voce cazzo per avere guidato un po' di sberloni tutti o se non almeno suonato un attimo la sveglia dire ehi perché cazzo è bella la vita quando è comoda col salotto no ma minca cazzo a fare il silenzio papale e non siamo più nel cinquecento l'arco 2 è impossibile che nessuno si renda conto che cazzo lo cantavo non mi ricordo quanto cazzo di anni fa cosa era passa il sole passa il sole cioè forse il primo rap che ho scritto in italiano no no il primo era sono in questo posto sì è vero che ero col mio gatto pensavate che pensasse a qualcuno con mio fratello a fianco era il mio gatto cibo quello che era sulla mia palla piccolino nel 90 alla prima battle rap al dottor sax a torino che aveva il seraule io giunsi secondo sì ma meritavo di giungere sopra l'uno e lo 00 su tutto il cielo perché la gara era in italiano e io salì per la prima volta sul palco con un piccolo gattino rosso egiziano qua sulla spalla cantando il sardo handicap quindi che è successo non hanno capito un cazzo di valore ma le liriche le metriche i giochi di parole la velocità senza fare extra bit no sul tempo erano talmente avanti che sono avanti ancora oggi e ne dovete studiare ancora di metriche quante quante metriche solo deuseo ha aperto in tutta la sardegna non avete idea e questo ve lo possono confermare fratelli anche nemici che molti sono partiti da una riga di un pezzo di colpezzo cioè gli è piaciuta quella roba ci ha fatto un rap sopra capito come sto facendo io adesso a livello in cui sto mi basta una parola una riga che quella per quella riga per me è una cartella zippata tutte quelle che vi sto mandando tutte sono cartelle zippate è una frase legge la frase finito lì è un aforismo no coglione è una cazzo di capsula stellare che ho compreso per spedirla ai posteri un giorno diranno minca guarda sto giosteto che cazzo combinava nel 2014 e cazzo ha preso minca è seccalato un peyote tutto da solo mescal psilocybe niente sono sobrio da tre anni di alcol sobrio completamente manda a fanculo anche chi mi offre insistentemente qualcosa acqua caffè cappuccino coca cola to va fanculo anche se si sa cos'è no però che cazzo ne so mi chiamavano coca cola a reggio il primo tempo due litri a pranzo due litri a cena e tutto il giorno lattine non lo so vabbè mi ha tenuto lo stomaco pulito poco ma sicuro anche perché non sono mangione io mangio una volta al giorno e sempre quelle cose pasta legumi se sono fortunato una bistecca non mangio interiore ma come dicono in salento l'uncrame come diciamo in sardegna su marzammini e cazzo il povero animale che già ce lo mangiamo purtroppo ci hanno dato sto vizio da bimbi ed è difficile toglierselo già mangiamo sto povero animale e più andiamo a mangiare la cosa più schifosa dell'animale dove è passata tutta la sua vita di cibo per tutta la vita il fegato mamma mia povera la mamma mia benedica mamma mia bella una volta è esploso il lampadario perché non volevo mangiare il fegato cioè una cazzata ovviamente c'era un cortocircuito ma la coincidenza è tanta talmente tanta che mio padre e mia madre mi hanno guardato ma che cazzo è questo Gesù il satana a me sono andati 6 1 66 alle 6 però era insisteva insisteva un piatto un'ora davanti a me di fegato tagliato ma che schifo solo a pensarci a un certo punto no la voglia il fegato 6 lampadine esplose che sono cadute tutti i vetri sul tavolo su tutti i piatti tutti spaventati era un cortocircuito aveva fatto esplodere tutto e io ingenuo cioè piccolo puro cazzo vuoi dire un bambino di 5 6 anni eccolo vedi anche Gesù non vuole che mi ha spiegato bellissima cazzo anediti ragazzi veramente la vita è un colossal come questa vita non è giovani miei cari belli non è la 100 metri ma che cazzo correte nata dovete andare è una cazzo di maratona ma neanche una marcia lunga vedete almeno che io ho 58 anni mi stai guardando 60 anni cioè ti fai la proporzione della contezza ce l'hai di della montagna 60 anni ma tuo padre così a 40 non penso proprio qua sicuramente no il fisico magari si è tenuto bene ma qua lucidità apertura mentale gergo giovanile mi vuoi gustare ma dovevi andare che ti prego tutti i devasi da remoto hai visto basta poco no come dicevo là anche se mi butti nella merda prendo la merda me la spalmo in faccia e ti rido in faccia e ti abbraccio così ti do anche la merda a te e tu però ci rimani ti viene l'infarto se ti tocca un schizzino di cacchina vero vorrei vederti nei marciapiedi amore mio dove è vero quel che vedi come diceva re ben re nato zero capito re nato zero è nato veramente zero ma era un re è nato re cioè una charade c'è un nome nome che la perfezione lui solo quello poteva diventare re nato zero un gigante perché perché c'ha quel nome lì il nome non sembra ma è il suono che ti accompagna per tutta la vita ed è una vibrazione una frequenza non conoscete le frequenze è tutto una frequenza 432 tutto l'universo tutto la cascata l'uccellino io che ti parlo è tutto a 432 poi qualche stronzo di teutonico catteschi e ali che sai che loro sono molto catticoriche non si può pam pam e che cazzo dimmelo prima no un cartello Sturm Struppen de Lucaten e loro decisero che dovevamo accordarci tutti a 440 e cacofonia pura cioè siamo fatti di acqua quasi la totalità non mi ricordo le percentuali 70 80% di acqua, acqua anche se ci vedi solidi siamo liquidi, l'aquila liquido lucido con lucido sempre così è e quindi risuoniamo di merda cioè sembra che per farla in pillole, in spiccioli in argente poche come si dice, monettine da tasca alla francese, che è loro che la baguette gli piace, no? Fare lì frufru per dirle un poco, inizi un cerchio per chiudere e te ne vai, non chiudi le cerchi ma vaffanculo e metti il tuo cazzo di diapo, sono 4 e 32 che rimettiamo l'armonia in tutto sto cazzo di universo perché non è solo il nostro pianeta a merda che già ci contribuiamo proprio il nostro fare proprio, il nostro far non fare non far fare mi ci perdo pure io in me quindi non preoccupatevi se non mi capite è normale che cazzo volete capire da 30 anni mica porca troia in 5 in una macchina hanno riuscito a cambiare una gomma e ve ne vantate pure in live ma un minimo di come si dice aiutami billy ma cazzo si dice ah è amor proprio ma non ce l'avete un minimo di amor proprio senti che bella parola un libro l'avete aperto e c'è scritta questa parola vi è mai capitato? ah non aprite i libri e allora è un casino ragazzi se vi affidate solo ai mezzi che sono la mia vita il mio pane dal 92 progetto elettronica 92 Sogei Getronix mica pizze e fichi e streamer del sta minchia Sogei sapete cos'è la Sogei? no? quello dico io è l'ente che gestisce tutta l'architettura informatica dello Stato italiano non dell'ufficietto di tuo padre hai capito? lo Stato progetto elettronica 92 Getronix Sogei Getronix l'altra ditona con cui ho fatto le olimpiadi ho fatto le migrazioni bancarie di tutta l'intesa BC del Piemonte io solo capito? eravamo un team di 5 persone e ognuno aveva una provincia che vuol dire entrare in una banca su appuntamento e quando tu vai a operare sotto nel cavoco i miliardoni i milioni belli il tipo sudato che conta è un tipo controllata a vista e tu entri con la tua terza media e prima entravi per andare a fare il conto e cose c'era già la guardia che ti guardava con la mano sulla pistola tutti gli impiegati che ti guardavano e questo ma che cazzo è guarda come è vestito ah pezzi di merda comodi dietro i vostri banconi a posto fisso cazzo di checchezzalone che non siete altri ah ti è piaciuta questa checchezzalone vabbè non mi rompi a me i coglioni walk di sta minchia e fai più danno tu che i trogloditi a cui ti illudi di voler imparare qualcosa ma come cioè come sei messa messo a e io u e mi metto anche anche il punto interrogativo l'asterisco e tutto dove le svasti cazzi che vuoi cogliona coglione zerbino che ti vuoi trombare la cogliona facendo lo zerbino ma dove cazzo dovete andare ma pensate alla vostra vita mettere in equilibrio prima la vostra come diceva un cazzo di ragazzino in Galilea me dico cura te stesso me dico cura te stesso cazzo mi dai consigli te li ho chiesti pianto un cartello lo guardo e decido da me che cazzo vale della vita ma come ti permetti di darmi a me del patriarcato del maschilista ma hai presente chi sono io personalmente in questo caso eh sì ho quella roba in mezzo alle gambe ed è colpa mia sono nato così e che ti devo dire a te che rompi il cazzo con quella testa di minchia sei nata così che facciamo sto giochetto a chi ha più difetti perché invece non ci abbracciamo nei pregi eh ma ci avete mai pensato a sta cosa no dovete sempre cercare il pelo nel cuculonido e se non lo trovate nel cuculonino glielo mettete voi nel cuculo al culo eh giochiamo a ste cose mica vi rimbalzo addosso soprattutto quello che mi dite ve ne do dieci volte tanto non si fa così la gente qua che può friggere cervelli da remote ma siamo etici sai cosa vuol dire etico 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 tico tico co come un uovo alla coke capito perché non ci avete niente non ci avete nulla in testa io sto parlando dei dei trentenni in giù senza offesa con amore perché cazzo siete cresciuti sotto la visione della società e della vita di quel cazzo di mai consenta di microfono messo sulla mandata ah mic on sent ah pensa che sciarada l'avevate mai vista è lì davanti a tutti ma consenta si one two three mai consenta microphone senta facciamo noi rap non voi che cazzo volete gue coglione che ti fai le seghe ti fai scappare le seghe in diretta ma forse è quello ce le facciamo tutti perché la vita si divide in due categorie chi si fa le seghe e chi mente chi fa onanismo così mettiamo anche le donne dentro che si fanno anche loro dei gancazoni di gomma ok o manina delicata dipende dalla giornata fa anche rima come jonathan il pescione è presente oh mio dio cazzo potrei andare avanti per ore a dirvi tutte le cose che non vanno ma non vanno non perché non contribuisca anch'io a non farle andare però cerco di limitarmi cazzo perché devo schiacciare una formica se la vedo lì sulla soletta e io vedo gente che fa questo che si attacca alle persone che non hanno strumenti per poterle per potersi difendere da queste bestie inumane non ci avete niente dentro quella cazzo di capa avete mai fatto esperienze di vita manuali pragmatiche sostanziali sostanziose non di forma ma di quello che c'è dentro al vasetto e tu puoi mettere tutto il vaso d'oro che vuoi fammi lo streaming bellissimo e poi dentro c'è la merda che senso ha ma preferisco un vaso di merda con dentro una perla mi capisci non ha senso tutta sta roba state non solo perdendo tempo per voi stessi ma anche per gli altri perché io ho gli strumenti per evitare il gioco delle tre campanelle delle tre carte il mattone al posto dell'alpine fa in fretta che c'è lo sbirro cioè Napolè siamo tutti Napolè se vogliamo in caso di necessità provo anch'io a farmi raffare i miei nel limite limitandomi perché sì ho fame se riesco a prendere un panino rubato lo prendo ma non mi porta via tutto il negozio capisci bisogna controllarsi un attimo perché state veramente in autoreferenzialità in apologia dell'ignoranza cioè è un controsenso totale nello psicologico alla vita vissuta per strada cioè andate in giro convinti di essere intelligenti autoreferendovi c'è un bisticcio psicologico enorme e ci credo che poi siete tutti di società in questa società dissociati di società cioè siete proprio fuori dal mondo vedo continuamente e seguo io vi seguo streamer dal primo lockdown che avevo un cazzo da fare prigioniero politico perché non mi son fatto fare io e ho rotto il cazzo a tutti e questa gente di merda satanisti del cazzo pedofili mangia bambini sono riusciti a far sì che fratelli che avevo da 40 anni mi girassero le spalle a me dandomi dell'idiota a me perché era più intelligente e buri ondolo per loro ma lo vedete a buri ondolo che cazzo di elemento è mica che sto spuntando meno la pislazuli io che la bava che ha lui qua che ci fai una parete di una casa cazzo non lo vedi che è finto falso di plastica vestito di cartone è un barone che viaggia per i corridoi dell'università con dietro poverini lecchini che li tengono le vesti e la mantella che è più lunga dell'università ma non esiste proprio quello lì a schiaffi lo mando via dalla diretta come mandai via Vittorio Feltri negli anni 90 andatevele a vedere se non mi credete a me non mi credete te che rai e lì te che rai che te che vai levati dal cazzo mi parla dal suo ufficio di direttore ultra mega galattico con i divani in pelle di sto cazzo e il coso in Mogano e la la scrivania in Monaco in Monaco sì di Baviera di Barriera di Milano come sono io la scrivania in Mogano la pipa in Radica mi viene a parlare a me di periferie ma non stiamo normali eravamo noi ospiti microfonati lì da una settimana parlato semplice del fu Gabriele la porta ma andiamo scherzando questo che mi viene in diretta tutto perché i ragazzi di periferia oh coglione sono io un ragazzo di periferia ma che cazzo mi parli di periferia con la scrivania in Mogano e la pipa in Radica con la tua condiscendenza la 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 ciccipopopo eh no Gabriele però questi sono i termini io abbandono la diretta e il programma si chiamava parlato semplice se l'è data proprio sui coglioni da solo perché Gabriele che se ne dica era una persona veramente linda e trasferente e gli ha detto eh Vittorio guarda siamo parlato semplice se proprio tenevo andare ciao se non do e noi apoteosi perché la redazione cominciò ad essere tempestata di telefonate eh ha ragione quel ragazzo col fazzoletto in testa avevo la bandana quindi ero già strano immaginati una negli anni 90 che va con la bandana in una diretta rai cioè già ti guardavano tutti come dire ma questo dove cazzo deve andare a mandare fuori da coglioni Vittorio Feltri guarda un po' quindi se mando il via gente così sai quante me ne mangio di ragazzini di 30 anni che non hanno fatto un cazzo nella vita non hanno mai visto una fabbrica una catena di montaggio uno dei tre turni che ci siamo succati noi degli anni 80 20 anni sai cosa vuol dire lavorare la prima volta che ho fatto il turno di notte ho pianto sì lo confesso ho pianto perché entravo in fabbrica quando ero abituato a uscire di casa per andare a far festa come fate voi mi capisci lavorare dalle 10 di sera alle 6 di mattina magari in una pressa in un alto forno in un cazzo di vomita bauli di plastica odori sapori nervosi scazzi madonne che volano lavorare non è mica starsene lì ttt cia 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 non chiamate lavoro e sarà il lavoro l'ho fatto anch'io nel 2002 già trasmettevo in streaming che voi manco eravate avevate ancora la sborrattina di acqua ragazzi ehi ehi fate a vedere un po' live streaming you stream addirittura stavo su twitch prima che si chiamasse twitch era justin tv se guardate tasto destro proprietà su un'icona andate a vedere che quell'icona sta sul sul claudo jtv e ancora lì capito non hanno potuto cambiare il fisso l'indirizzo e jtv justin tv che era il primo tizio che se ne andava in giro con una telecamera attaccata al corpo e si registrava tutte le giornate come fate voi adesso ricchi premi quotidiano e la gente vi in bocca da mangiare capito mentre lì i geni come me gli esperti che hanno specializzazioni da 40 lauree da una falla fame capito salvati dai fratelli perché perché in 40 anni questo signore signorino non mi sono mai sposato anche se due figli ma sono single per i dirigiti ma difesa andatevene a fanculo tutti pazze di merda criminali capito mi salvano perché ho seminato bene perché quando io avevo 20 anni loro magari ne avevano 13 14 15 e li ho tenuti fuori dalla strada stando nella strada perché noi siamo breaker bboy dj mc oratori disegnatori di tutto eravamo sempre in mezzo alla strada H24 ai tempi mica adesso che vai andiamo a ballare in palestra andiamo a farci un po' di pesi coglione mica ti fai 15 km in macchina per fare 15 km tessuto a pirurante vai a piedi te ne fai 30 no? fai 15 andare 15 tornare hai risparmiato benzina e ti sei fatto un fisico naturale non pompato naturale perché il fisico bello e vatti a vedere il mio già solo nel 2000 con gli addominali scolpiti come un dio greco si fa lavorando muratore contadino imbianchino trasportatore scaricatore di porta quello che vuoi nel palestra ti pompi come un palloncino di merda e capite se non continui a pomparti ti pompi ti pompi poi ti sgonfi diventi un flaccido del cazzo non c'è forza nel pomparsi la forza te la dà la consapevolezza di lavorare come mio fratello Luca laureato in scienze della natura che è rimasto come voi parcheggiato perché le università non vi insegnano un cazzo se non poche nozioni di quel lavoro che andrete a fare non vi mostrano strumenti su come affrontare la vita quando uscirai da quella cazzo di prigione di stato di merda dove vi programmano col programma ministeriale delle sudi dai inoculiamoli questo ah ma andiamoci anche questa feature e quest'altro e così che funziona siamo computer dicono che siamo che Dio ci ha fatto la sua immagine e l'umiglianza non posso dirlo non l'ho mai conosciuto mi è passato qualche volta vicino ma se ne è sbattuto altrimenti i coglioni di me forse mi ha dato più cose satana anche se io l'ho sempre cacciato e continua a cacciarlo però c'è è nella dualità sono tutti e due in me questi signori che se la girano a giro tondo e non si imbeccano mai nessuno la mette mai in culo all'altro perché sono sempre uguali capito non è così non è così cazzo dovete svegliarvi se no qua moriamo tutti per colpa vostra perché se le persone elevate emancipate acculturate io sono partito da contadino a 12 anni da solo senza papà e mamma separati a me mi esplosa in faccia la miserrima bugia del bulino bianco un giorno da zero dalla mattina al pomeriggio ero convinto di essere in ferie dai miei nonni in vacanza perché io sono nato a Torino e cresciuto a Torino fino ai 12 anni ho fatto le elementari lì e come ogni anno scendevamo in vacanza un mese come si faceva un tempo chiudeva la Fiat chiudeva Torino tutti già pronti l'ultimo turno con le macchine già pronte cariche capito e si partiva per un mese intero a ognuna casa sua calabresi in Calabria siciliano in Sicilia pugliesi in Puglia e noi in Sardegna e quell'anno lì col cazzo quando era ora di fare le valigie ho visto che tutti facevano le valigie tranne io e mi esplosa il mulino bianco in faccia una deflagrazione che manco aggazza poverini che nessuno cazzo alza la voce state tutti lì assittite Ivan Grieco minca da divano capito il guerriero da divano dead papà divano il guerriero da divano non mi pare dai Ivan porca troia ci siamo conosciuti infrangenti tranquilli però veramente stai esagerando con questa spinta da tifoso incaultras dove cazzo devi andare che se ti solo sparare solo sparare un obice da 440 ti cacchi nelle mutande ma l'hai sentito mai un obice sparare io sono stato genio guastatore sai cosa vuol dire o genio o guastatore tipo Jean Ardain la rappresentazione di Vesnou l'amorevole distruttore se vieni con amore ti amo se vieni con l'odio ti disintegro cioè hai presente cosa significa un candelotto di tritolo da 15 grammi ti tremano ti trema l'anima perché dovevi andare lì perché una bomba NBC esplosa da quelle da adestramento a denaia quelle rosse piccoline che cazzo ne vuoi sapere tu quando la lanciavi a volte non esplodevano e noi genieri dovevamo andare col candelotto metterglielo vicino accenderselo con la miccia e andarsene ti andavi via veloce bene una volta che eri abituato te ne andavi via alla full metal jacket sai con tutto che dietro esplode mentre tu ti accendi la sigaretta però minchia tremava il terreno e trrrr cazzo immaginate un obice da 400 che ti spara che ti pettina ti pettina solo l'onda d'urto tu immagina in guerra questi in ucraina cosa cazzo stanno vivendo a ruota continua e tu guerriero da cod da salò da divan Ivan Griekowski mica c'è anche il nome Omen preciso il super errore con la mantella giallo blu che va a difendere dalla cameretta di casa a pupazzi ma stai scherzando e poi obblighi i tuoi ospiti ad avere la tua stessa opinione ma che cazzo di mediatore sei media 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 non media media quello che le dico io no hai sbagliato quella è una sciarada dia a me quello che vuole lei questo è media non media quello che dico io poverino cazzo fotografo di Torino che c'ha due coglioni così quello mica è un trallallera da studi antropologici come te e tutta la pizza Roma Connection capito che vi fate comunerla assieme uno tira l'altro ma dai porco Dio Stefano ma stai scherzando era un destista che si è rotto i coglioni della società ha detto famo foto e mo gira il mondo fa gruppi gruppi di fotografia e vai a guardare il karma tuo come cazzo sta messo che manco ti accorgi delle cose che è questo quando esplosa la guerra chiamiamola guerra invasione reciproca perché nessuno qua è pulito il più pulito c'ha la rogna capito Putin è un criminale per i cazzi suoi per i suoi interessi ma quell'altro è un cazzo di ballerino ricchione coca in ome c'è i problemi con la parola ricchione e se sono cazzi tu sei tu che ti pigli i cazzi e mica voi e mica te lo sto dicendo in modo dispregiativo mi è andato di fatto capito non mi rompe i coglioni a me con le cose uoc perché vengo lì e vi tiro giù la scenografia in due secondi a me a un sardo mi viene a parlare di ste robe sono nato in una società matriarcale mi hanno allevato solo donne e cazzo vedami a me mi dovete insegnare il rispetto di Tizio e Caio sono cresciuto nelle nostre discoteche dove andavamo per ballare e non per trombare sballarci e bere c'era la fauna di tutta la città tutta la fauna urbana dei tempi c'erano tutti e se li chiamavi Ricchioni erano anche contenti signorina venga andiamo a verci qualcosa e andavamo insieme a verci quelle cose senza problemi ho avuto una compagna che il fratello era Ricchione e giravo con loro con una marea di Ricchioni non mi hanno mai fatto problemi ci raccontavamo persino le bardellette di Ricchioni tipo quella dell'amante della Sai che stanno trombando 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 e poi arrivano e quello davanti fa e adesso mi mangerai la testa vero e le fa ma no sciocchino quello lo fanno le donne capisci com'è la vita così è bella poter scherzare sulle scelte personali che uno ha fatto così si arriva l'amicizia non proibendo alle persone di esprimersi perché l'ho detto ieri che mi hanno rotto il cazzo ma li voglio bene a Riccardo capito a Riccardo li voglio bene perché abbiamo parlato in privato di cose che voi non sapete manco che esistono ok mi ha detto che ero off topic e che cazzo off topic a me mi dice porca troia è dall'età di 12 anni che salto recinti se non riesco a saltare gli sfondo e se non riesco a sfondare do fuoco a tutta la fattoria degli animali la fattoria degli animali capisci cazzo mi metti i limiti ricordati che solo i caratteri limitati le persone col carattere limitato limitano i grandi caratteri mettere caratteri limitati su twitter cosa serve a farci stare cosa che non c'è spazio che cazzo dici il fai diverso non c'è spazio puoi scrivere gli anni di roba senza affermarti che è un bit un input output è una cosa così non abbiamo mica più le stanze per un mega di ram porca troia in uno sfutto ci stanno i tera ma stiamo scherzando è messo a posto per limitare il carattere no i caratteri il carattere quindi caratteri limitati limitano i caratteri ti piace queste neuroscienze che cazzo ne sapete non avete mai preso un libro in mano se lo prendete perché è di un amico che ve l'ha regalato ah io non riesco manco a finirmi la sigaretta talmente il flusso che sono partito giusto così dalla prima cosa a casa perché se veramente mi metto a fare gli argomenti seri ciao non ne riusciamo più rimango ora a parlare e voi a dire mica non ho capito la prima figurate se ho capito la seconda così funziona ti piace la Pepsi piace la Psyco è uscito fuori perché è una bella giornata sì Billy hai ragione perché ieri avevo la barba anzi stamattina ero tutto peloso peggio di Franky Energy quel cazzone di merda bastardo del mio stesso anno e poi tutti i cazzoni sono del mio stesso anno tutti del 66 cazzo il cazzo si chiama è del 66 Dimo è del 66 Jed è del 66 Franky Cazza Energy che cazzo di energia hai è del 66 ma sono un ricco del 66 normale forse perché sono nato il giorno di Satana Epifanio mi dovevo chiamare visto che sono nato il 6 gennaio il giorno dell'annunciazione di nostro Signore e minchia mi fai nascere il 6 gennaio del 66 alle 6 di mattina oh signore mio bello ne volete paradossi per link cose che a me mi hanno arricchito nella vita perché sapere che Giuseppe 6 o anagrammato vuol dire seppe su e giù è già una spinta per un ragazzino dire qualcosa forse la saprò oppure che dentro Giuseppe 6 ci sono 6 vocali i u e e e e u i u e e e e u tornano oppure che ha abitato in più case con numeri civici 6 che altro ce ne sarebbero di coincidenze astrali mondiali che non è fuffaguraggine quelli io vado a fare qualsiasi fuffa di qualsiasi cosa li amo proprio quando li incontro con le loro potenzia la tua mente con solo te lo diamo gratis si in culo devo entrare lì e darti la mia mail e il permesso di rompermi i coglioni tutte le mattine con lo spam coglione sei già partito male sei già vatti a sedere tu e la tua mente catta che non sei altro io ti catto in testa con due piatti tacatà tacatà tacatacatà veramente se mi fossimo messo a fare il guru non lo so peggio di voi peggio di adesso non lo so ma sicuramente meglio di tutti questi altri dai che cazzo ma manco dal primo passo riesci a farle giuste mo visto aspetta che io vado in giro a rompere i coglioni nel senso che non vado io a rompere i coglioni vado in giro per bolle che non sono mie perché il fediverso è così tante bolle di tanti che si sono uniti e si tengono chiusi lì e si rimbalzano le cazzate a vicenda soprattutto la merda che condividete è andate a fanculo tutti vi ho mandato a fanculo guarda che lo sto scrivendo apposta a ripetizione perché non voglio più sapere niente di voi mentecatti gente indolente gente nella pigrizia cazzo un mese che mando contributi che manco la madonna incoronata quando ha visto il signore in croce ha detto faccio cadere tutto il creato niente manca una condivisione manca un'interazione ma forse perché non le capite capite di più la merda che hai mangiato ogni giorno e ogni giorno vomitate sugli altri che la mangiano a loro volta e la vomitano su quella a fianco ma mica manco Petrolini che aveva la frase proprio io non ce l'ho con te ce l'ho con quella a fianco a te che non ti piglia schiaffoni capisci ma che cazzo state mandando salute bene ma poi gente mia mia che io dico mia nel senso che non è possesso è mia con cui mi ci interfaccio da una vita da 40 anni a oggi c'è gente che la conosco da 40 gente che conosco da 30 gente che conosco da 20 gente che conosco da 10 gente che conosco il gioieri e vale più di tutti voi messi assieme cioè aiuto boh e ce n'è tanti ragazzi e guarda che quando ho mosso il cavallo io della scacchiera dell'hipop Italia veterani e pienieri di sta minchia ok nonostante tutte le cose fantastiche spettacolari meravigliose irrepetibili uniche eterne nella vita che abbiamo vissuto a sto punto ragazzi andatevene a fanculo tutti cioè sono io l'unico che è rimasto real dall'84 possibile che cazzo vi hanno fatto vi siete corrotti o avete paura che vi si caghi nell'orto e non potete più coltivarvelo ma veramente avete paura di quattro pisciaturi guè sfera e basta fabbri fibra ma mandatemi a me da loro se avete paura di andare voi che ci siete vicino in contatto vengo io vengo io non uso le mani uso i neuroni ma stiamo scherzando io non me ne vado me ne vado nel senso che continuo a fare più di voi all'interno della società anche stando seduto qua guarda che bellissimo posto dove sono guarda che bel posto guarda il nuraghetto guarda qui per i bambini questo si chiama il giardino dell'uraghetto dei bambini capito qua pensiamo ai giovani come dice una delle diciotoline guida della hip hop declaration of peace ma voi non ve ne fate più un cazzo a voi cazzo avevate interesse nell'hip hop adesso pensate a che interesse potete tirare fuori dall'hip hop voi non tirate fuori interesse dall'hip hop voi tirate fuori interesse da un business che si è stato costruito attorno a quello che è stato rubato tra i pochi due o tre strumenti perché non possono far finta di breccare ce la sucano eh belli miei il breaker è l'unico che è rimasto il bboy è l'unico che è rimasto originale il bboy pensateci bene il breaker angelino e nea tutti loro sono gli unici che sono rimasti originali perché perché siamo bboy siamo breaker e tu non puoi far finta di farmi un win un thomas una routine nel cerchio puoi fingere di fare il rap l'ignorante come te ti può anche credere che tu stai facendo rap mentre gli stai dicendo le filastroche che manco mio figlio a cinque anni faceva era già di livello superiore ciao Mirko Raiano saluta Lussalentu oh finalmente qualcuno che viene saluta cazzo ho visto gente passare manco salutare capito gentaglia pezzenti perché se fanno così vuol dire che non hanno strumenti menti menti come mandi mandi che lo mandi da sei mandi mando cazzo vai mando cazzo sguadagno ah io com'è Mirko tutto a posto sono uscito e mi sono fatto una bella tosata alla mufflone bella bella e dentro non c'è connessione da poter reggere una cazzo di live infatti quelle che ho fatto le altre volte un'ora un'ora e mezza di roba mi si troncavano a venti minuti e allora ho potuto caricare anche quelle e meno male che non avete visto tutto quello che cazzo ho detto quello che non si è visto c'è già quello che si vede in quei due video che ho mandato anche su youtube perché gli arrivano a sta gente di merda Frenkie ti sto aspettando e dov'è tutta questa high energy lo cazzo sta mi fai ridere cazzo di panzone e bullonzola a proposito Frenkie ma mo ci ho pensato perché mi era arrivata discurgita mo ci ho pensato questi giorni e una volta avevo sentito un pezzo tuo che io non ascolto nulla di merda vostra da sempre io ascolto solo break and beat funky soul jazz blues r&b poetry tolkien tutto quello che da lì va alle radici il resto non ne voglio mezza però è passata così una cazzo di roba e ho sentito che tu hai detto o dici in un tuo pezzo di merda che non sei altro meglio sconosciuto come io devo controllare perché non conosco tutti i tuoi pezzi devo controllare se è vero minchia il mio comandante pirata grande benvenuto facendo un discorso molto serio torno dopo dicevo caro francolino bassa energia perché se ce l'avevi venivi qui a rompermi i coglioni ma non ce li hai i coglioni tu ti chiami Francesco di Gesù Francesco Franco e Fresco mica sei più marcio e bugiardo e non di Gesù di Satana è vera questa roba che in un rap ci hai meglio sconosciuto perché se è vero io vedo veramente vengo e ti metto l'ernia nel buco del culo da dove ti è uscita questa io non rimentico nulla dall'età di tre anni io lo so da dove viene quella roba e se vuoi te lo rammento io prima che ti taglio in due ti rammento dopo per ritagliarti di nuovo e rrammentarti ad libitum come si dice in latino a piacimento capito connessione figlio di puttana è tornata la connessione porca vedi vedi che quando comincio a parlare di sti pezzi di merda va via tutto e lo stesso è successo con quelle due dirette quando ho cominciato a parlare di te francolino bello eh francolino bello franco e fresco c'è pure il nome di San Francesco tu parli con gli animali tu parli con gli uccelli il mio adesso com'era sta roba meglio sconosciuto ti ricordo io di dove l'hai sentita tu meglio sconosciuto ti ricordi il MEI il raduno delle etichette indipendenti dove c'ero anche il signor Giosta con l'etichetta di Torino a una grumba di cui ero dirigente Arci ti ricordi e tu venisti a mollarti tutti i giornalisti che ti facevano capanello alla buriondolo in Gallufrenche e Ghenerci la 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 tutti erano lì fanzine televisioni private dedicate a musica tutto intorno a te tu hai mollato tu ti sei venuto di corsa verso me con tua moglie mi stai ricordando vero ma che bello il tuo cervellino tua moglie e come mi presentasti a tua moglie e cara non so mi ricordo il nome di tua moglie mi perdonerà perché non è purtroppo si è messa con un coglione come te è da compatire comprendere abbracciare poverina mi presentassi lui Joseph di Torino e io mi inchinai con reverenza come si fa una nobile donna una madonna un signore fa non un signora come te si ignora non ti ho dato del ricchione anche se non so se lo sei peloso di merda e io e io gli ho detto meglio sconosciuto come Giosta e ma mi viene il dubbio che tu hai detto meglio sconosciuto come Frenchi ma io devi gli schiapponi veramente sui denti hai capito e perché a me mi è arrivata in questi giorni eh materiale anche su di te bello mio potere alla parola sì con le parole degli altri vero rubando le rime agli altri ai testi sulle scrivanie collaboratori i tuoi me l'hanno detto coglione i tuoi come quelli di Clementino Clementino eh sfa cavetri lui però gli brucia macchinini se non paga cocain eh che cosa gli servì per andare a transì quello transì Europe Express eh guarda minca mi a voi mi sto chiamando per nome uno per uno non ce n'è uno che mi dice cosa vi siete nascosti tutti nella tana del bianconiglio bianconigli di merda che non siete altri stanchi della vita siete nati e siete già morti vivendo non avete lo spessore per affrontare un uomo come me di 60 anni che ha attraversato da 46 anni dall'età di 12 che ero da solo nella vita robe che voi neanche una virgola riuscireste a sopportare e ce le ho tutte qua come sto bellissimo un uraghi capito guardalo lo vedi quel peso ce lo mette i coglioni e siete voi adesso che avete rotto il cazzo a passare nei corridoi della mia scuola con le vostre suole di merda che cazzo di uomo è quello di gue che chiama una gruppi in privato per farsi segone e fargli fare chissà cosa quella ma vi rendete il conto dello schifo potrebbe essere mia figlia la vostra se ne avete una ma vi rendete questa cosa a me tanto a me tanto io non voglio queste persone che facciano finta di fare e di essere me ma stiamo scherzando e un bambino deve pensare un ragazzino con cui io debbo parlare perché sono un educatore un operatore sociale devo approcciarmi in determinati modi dell'edutainment educazione intrattenimento faccio un po' lo scemo ma lo faccio perché è farsi l'intelligente e questo ragazzino deve pensare che io faccio la stessa roba di gue no è lui che ha rubato la mia roba io li voglio giù tutti dal palco via dalle televisioni e sono solo e tutti sti veterani pionieri di sta minchia blasonati che lavorano loro lavorano capito non lavorando lavorano io che lavoro non lavoro spiegatemi sto cazzo di paradosso perché io che lavoro opero nel sociale non lavoro e non posso mangiare perché questi che non fanno un cazzo non li vedi mai in una panchina o in un cortile di ragazzi lavorano e guadagnano e ho un mondo al contrario lo sopporto ma non lo accetto sono sempre stato zitto per 40 anni mi sono fatto i miei studi sono sempre stato chiuso nella biblioteca di questa grandissima opera scuola hip hop cultura hip hop sempre stato in biblioteca potete chiedere a tutti mi chiamavano il bibliotecario perché ho sempre libri in mano riviste manuali l'etichetta del digsan tutto pur di nutrire la mia mente che nutre l'istinto così quando scateno l'istinto sono sicuro che non sbaglia non faccio cazzate perché l'istinto è la cosa più veloce che puoi avere se già ci pensi sei già morto ti hanno già sparato in fronte corri in un campo di grano non è una cosa non è un tipo capito eh generali dietro la collina ti hanno guardato ha sparato la schiena ehi ehi mi hanno messo la roba in testa ma cazzo fate a vivere così dipendenti da una roba elettrica senza telefonino e senza un device che si connetta alla rete chi cazzo siete continuate continuate anche in rete a fare ore 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 di trasmissione parlando di altri che senso ha prendere il video di un poveraccio e blastarlo che senso ha cosa lascia che ricchezza ti dà che ricchezza dai agli altri che spunti che cazzo di ispirazioni nulla ispiri soltanto a fare la merda che fai tu a prendere un poveraccio nella cascata più basso blastarlo e bravi siete tutti bravi così e se vengo io con un garant un fall e ti sparo in bocca ho vinto no sei come il piccione che caga sulla scacchiera e se ne va via tutto tronfio e impentito pensando di avere vinto ma non sai giocare a scacchi hai solo cagato sulla mia caschiera sei un piccione che caga su un monumento ma a me mi puliranno l'acqua e il vento il tuo destino è di finire schiacciato come una merda di piuma sangue piscio nel cemento uno schifo da guardare anche capito da puzza incredibile che è quella che lasci quando passi tu streamer di merda che butti merda sugli altri streamer hai qualcosa da dire della tua vita hai fatto qualcosa nella tua vita hai preso qualcosa un frutto della vita che è solo tuo che la tua esperienza solo l'ha potuto coltivare e lo puoi passare agli altri nella condivisione del sapere che è la base del dna dell'emancipazione della razza umana c'hai qualcosa di tuo un pezzo di puzzle che nessuno ha mai visto e ne hai centinaia e servono agli altri che non riescono a finire il loro puzzle e gli salvi la vita c'hai qualcosa di così raro unico irripetibile eterno no sei vuoto sei un involucro vuoto sei una cazzo di busta della spesa piena d'acriga capisci sei niente e questa è filosofia ipope ragazzi non è che sto sclerando cose guarda sono anche fermo da quando ho iniziato questa cazzo di cosa perché me ne ho fotte meno di questa che di voi anche se vi ho mandato tutti a fanculo perché l'avete fatta grossa a sto giro ragazzi io go a general op army ho mosso per primo ho mosso di cavallo perché avevo tutti i pedoni del cazzo davanti e il cavallo è l'unico pezzo che può saltare i pedoni ho saldato i pedoni vi ho cagato in faccia a tutti in testa e ho puntato dritto verso la gergina di fronte ma al centro della scacchiera dove esiste il caos perché le aperture si conoscono tutte le chiusure si conoscono tutte un po' come il freestyle entri con un biglietto da visita già pronto ti lanci nel caos del centro partita quando vedi che stai uscendo fuori e non la capi più rime esci con un'altra cosa pronta perché nella mente delle persone psicologicamente rimane solo come esci di casa non come entri non si ricordano come sei entrato se hai salutato o no se ti sei tolto le scarpe se hai messo la tua scuola di merda sul tappetino del bambino no si ricordano come te ne vai di casa se lasci tutto in casa se non rubi niente se saluti con reverenza ed educazione se ricordi hai fatto un complimento alla moglie del padrone di casa per come ha cucinato i suoi mari caretti prima di andartene non quando mangi bastardo e goloso di merda che Dante ti aspetta nel girone quando vai via di casa si usava per galateo e mio padre me l'ha insegnato a calcio in culo dai tre anni sul galateo non mi ha dato calcio mio padre non mi ha mai picchiato una volta mi ha dato uno schiaffo ma sbagliava aveva bevuto troppo quella volta hai visto per galateo si dice quando vai via e ti congedi hai visto dai una bella stretta di mano forte al padrone di casa e lo ringrazio dell'ospitalità perché si non è a tutti dato entrare in casa mia che cazzo sei se ti ho fatto entrare onorami anche dei tuoi ringraziamenti capito se no non entrerai mai più in casa mia non è dovuto però lì fa vedere che tipo di uomo sei lo conosci il galateo no voi non conoscete manco la netiquette in rete figurati cos'è la netiquette e vedi billy che sei un coglione vattela a cercare internet ce l'hai perché cazzo le usi vuoi farti solo le seghe o rompere i coglioni a quelli che hanno meno mezzi di te per difendersi prova a romperli a me i coglioni che ti formato da remoto faccio tornare alle impostazioni di nascita hai visto e quanti anni hai 30 ti ritrovi rinasci pensaci bene formato tutto da remoto psycho war psy operation ok ritorni bimbo ti caghi il pannolino torni tra tutti c'hai 30 anni con il pannolino caccato in mezzo a una festa del paese e tutti si girano a guardarti minca che puzza ti sei cagato addosso e vedi no no dovete levarvi dai coglioni tutti prima pulisco casa mia la cultura di pop la scuola perché ragazzi li ho chiamati anche uno per uno sto chiamando a tutti a casa coetanei miei che stanno nella storia da 40 anni alcuni sono stati educati altri un po' sto guardando sto osservando hanno tentennato un po' nelle risposte ok vediamo perché non mi importa ma è grande piccolo grosso non importa San Sardegna è un'isola qua se entri non vai via a piedi o parti dal porto o dall'aeroporto a meno che non hai l'elicottero di mammina e papà e vedi qua stai e qua si fa in fretta a far volare madonna orecchie chi vuole orecchio signora perché ci vuole orecchio farucca sanno e se qui c'era l'anonima anonima io sono all'omonimo anonimo non ho nulla da perdere armi ne ho quante ne voglio in casa bianche bianche di legno e di ferro bianche però fanno tanto e qui campagne libere ne abbiamo grotte tritolo di miniere e guerre quante ne volete basta non potete non è per me io me ne sto andando da sta vita sono mezzo scombinato e la testa e su altre galassie cioè ho coordinate che voi manco immaginate che esistano e si possono fare matematicamente in questo piano terreno spazio tempo che siamo ma il corpo ovviamente è legato a questo cazzo di dualista terreno di merda marcescente di sterco di tutti noi demoni ok e quindi ciao me ne sto andando si spera in posti migliori o più avventurosi ancora è stato bellissimo vivere la cosa ve lo sognate cosa ho vissuto io e compari come me nella scuola hip hop in quello anche il più pezzo di merda si è goduto una vita da paura capito soprattutto il periodo storico migliore per i ragazzi di vent'anni dall'83 alla fine degli anni 80 mamma che cazzo era il mondo era tutto colorato pieno di gente che faceva che cazzo voleva sei gay sei punk sei punk sei emo sei qualcosa che ti ha inventato viva tu vieni anche noi vieni a mangiare con noi tutti i miei amici felici tutti i ragazzi di vent'anni che prendevamo un milione e seicentomila lire semplice operaio e una magnetta delle più care costava 10.000 lire hai presente un ragazzo di 18-20 anni io nell'84 avevo 18 anni e già prendevo un milione e seicentomila e a 18 anni come sei coscienzioso razionale di senno vai dove ti porta il cazzo tutti tutti fino ai 25 e chi va oltre è un malato di merda fuoco ma sicuro se ancora c'è davanti la figa a 30 anni vuol dire che non combinerai un cazzo per la vita sei un drogato di merda un tossico peggio di un aeronome eh sì perché guardate che il sesso è tutto bello eh sì è bello quando vieni una cazzo di roba meccanica sei venuto e poi finito la vuoi di nuovo come funziona con l'eroina stessa cosa ti fai godi da paura non lo so perché è l'unica droga che non ho mai preso sì mi sono drogato a voglia sono una psychonauta ovviamente ho preso ho fumato ho preso il cedì ho preso qualsiasi roba per studiare gli stati di coscienza che i fufaoguru chiamano dimensioni la la lì sono stati di coscienza possiamo essere seduti in tre sullo stesso tavolino e uno succede un evento assurdo uno cercherà ragione nella religione uno cercherà ragione nella scienza l'altro cercherà la ragione nell'astrazione dice minchia vedo un tizio che sta camminando nell'aria e quello della religione ah è satana è satana non fammelo guardare quello della scienza ah non può essere vero no no e ce l'hai davanti coglione di buriondolo ce l'hai davanti a te cazzo ti sta camminando davanti non è vero quello che mi fanno incazzare di più di tutti posso comprendere un poveraccio che è finito in una fishbowl nell'oceano della spiritualità capito come dicevano i Pink Floyd we are two fishbowls we are two lost souls swimming in a fishbowl capito mi ricordo persino i testi dei Pink Floyd dove cazzo dovete andare la religione dice che è una palla per i pesci nel mare della spiritualità capito c'hai un oceano infinito e tu sei dentro sta cazzo di vaschetta trasparente quella è la religione sono finiti lì perché sono poveri di spirito e stanno nel regno di cieli anche lì non ce l'avete la chiave per leggere la Bibbia normalmente poveri di spirito significa che non c'hai cazzimba non te ne fotte un cazzo non c'hai spirito è tuo il regno di cieli i cieli è la mente beato chi non c'ha cazzimba perché si fa il cazzito e non capisce un cazzo ed è felice nel regno di cieli non è che muori e vai in paradiso non esiste un cazzo di paradiso in tutto l'universo lo hanno cercato dappertutto non c'è nessun cazzo di cosa seduto con la barba e tu vai in paradiso e tu vai all'inferno quella è la visione che hanno i semplici semplici che sono da rispettare poverino perché sono vittime del sistema non è che uno nasce ignorante ogni bimbo nasce neutro almeno che non hai delle disfunzioni meccaniche a livello cerebrale a livello motorio e cose tutti i bimbi sono degli angeli puri sono neutri delle spugne nel contesto che li metti prendono la via cazzo non avete neanche questi basilari concetti filosofici non dovete andare nella vita e io c'ho la terza media anzi la quinta perché in seconda mi sono accorto che erano insegnanti del cazzo io cercavo maestri questi erano insegnanti che vuol dire insegnante maestro per te è un sinonimo billy no mi spiace anche quello dovete ancora imparare la differenza tra insegnante e maestro è che insegnante ti inculca un metodo programma ministeriale degli studi ti sta commirando come un computer come dicevo prima dicono che Dio ci ha fatto la sua immagine e somiglianza non lo posso dire come dicevo non l'ho mai conosciuto né lui né Satana ma sono certo che abbiamo fatto noi il computer la nostra immagine e somiglianza sia nelle componenti hardware che sia nel funzionamento software se ci pensi bene e mediti medita azione mediti con i movimenti crei sinapsi crei collegamenti tra i neuroni poi se i neuroni sono vuoti non è colpa delle sinapsi che sono solo vie neuroscienza diciamo però così è insegnante inculca un metodo si fa così punto e basta o se no pigli un brutto voto e vedi di metterla in culo al tuo compagno copia fai che cazzo vuoi perché tu devi primeggiare capito ti insegnano la competizione eppure quella bastarda infame mentre no il maestro non ti dice un cazzo minca batteria al 15% sono andato un paio di ore finiamo e me ne vuoi e forse riesco a finire la sigaretta amori miei amori miei un cazzo amori miei e Ivan in Salento e Mirko in Salento tutte persone che mi hanno visto sboccare il sangue come dicono loro e mi hanno dato rispetto e io sono narrato di quello ma quelli della mia cultura e della mia scuola ma me lo dovete dimostrare voi il rispetto perché io a voi non vi sto più rispettando siete chiusi in casa mentre questa argentaglia qua inquina mio figlio e mia figlia non so se li avete voi ma se vi piace inquilare vostro figlio e vostra figlia cazzo i vostri ma io vi caccio anche a voi non vi dovete avvicinare a me mentre ho preso questa cosa non fare finta di nulla bastardi ve lo devo dire in faccia svegliatevi datemi una mano a levare da merda questi iniqui che pasteggiano su noi e qui dicevo il maestro ti sta accanto il maestro è un talent scout il maestro è disposto a scendere di livello socraticamente a livello del ragazzino più ignorante che esiste pur di poter trovare lo spiraglio quel bucchino piccolissimo in questo cubo di cemento esistenziale dove non entra nessuno per poter dare uno spunto non ti di là mai si fa così ti guarda quando vede che ha la tua attenzione si butta e fa un giro sulla testa e il bambino si sciocca dice no che è sta roba figata voglio fare anch'io si avvicinare a lui al maestro perché è sempre l'allievo che scende il maestro non è il maestro che dice a te ti voglio come allievo perché sei figo sei bravo quelli sono i falsi maestri e ne abbiamo avuti anche da noi tipo Sandro Graff e quelli lì che si sono sempre circondati di ragazzini bellocci capaci talentuosi come Aui che adesso Aui è la merda è da TSO capito che gli ho dovuto fare una faccia così in casa mia qua perché a tradimento mentre lo salutavo che se ne andava capito mi ha tirato un cartone in faccia a me a tuo fratello tuo padre tuo cugino tuo zio che ti ha protetto ti ha infilato qua ti ha dato tutti i dischi le dritte di questo mondo mi dai un pugno a tradimento come il peggio tossico di sta terra alcolizzato all'ultimo stadio che l'ho ripreso e riportato dentro casa gli ho fatto talmente male che ho sanguinato io non è una battuta vi mando le foto gli ho fatto talmente male che ho sanguinato io in testa nel braccio nel gomito perché non mi accorgevo che talmente ne le davo lo sfrigolavo per terra nel muro e tutto che anch'io sfrigolavo e che da dove è partita sta roba da quando un falso maestro dice bravo tu minca sei in gamba vai vai andiamo di là che minca ci sono fighe vai minca pipa minca dai tira polla andiamo lì via quello non è un maestro quello è un falso maestro ti potrà piacere la veste ma è un grande antista e non piccolo uomo ricordatevelo questo ragazzi e io non dico cazzate e le affronto pure le cazzate che discono ma di questi pusillanimi e Sandro era mio fratello nonostante io gliele dica in faccia abbiamo misticiato tre volte di brutta non ci siamo parlati per un anno però io l'ho sempre detto in faccia sei una testa di cazzo sei un coglione hai detto ad esempio io non siederò mai nella tavola degli stronzi rappando davanti a milioni di persone e poi ti siedi con gli stronti a mangiare la merda e non sei corrente te lo devo dire che non sei corrente mi stai facendo fare figura pessima anche a me davanti alla gente capito? perché io non posso girare con uno che stupra qualcuno o che ruba o che cosa perché anche io stuprerò e ruberò per la gente è una logica normale io sono un signore sono cresciuto da solo e mi sono dovuto difendere da queste robe perché sarei già stato un criminale un morto un assassino uno stragista qualsiasi cosa uno sbirro e cazzo ne sono nella vita io mi sono dovuto chiudere difendere da tutti anche dai miei coetani che mentre io avevo un mondo più grande di me con domande più grandi di me loro giocavano tranquilli sereni come giusto che sia per un fanciullo che ha famiglia ma io non avevo famiglia me la sono dovuto fare a mano e se nella mia famiglia ho gente che mi piglia per il culo mi fa davanti una faccia e dietro me la metto in culo e ragazzi io tiro fuori il mio cazzone ve lo sbatto in fronte mi sono rotti i coglioni io non ho nulla da perdere non ho più i figli che l'infame di Galatina me li ha rubati perché degno infame degna compagna quella dove voleva fare la signora Bella con l'ambrellone tutto l'hanno piantato a Gallipoli e ha detto io non gli bastavo seppur qua dentro c'è più di quanto gli potesse bastare perché quando cazzo siete in copia avete i figli non dovete giudicare il partner per il partner se scopa bene o no o per quello che cazzo vi viene in testa cretine di merda dovete valutarlo per il ruolo genitoriale che ha sei un bravo padre non sei un figo compagno fate un'affanculo te la filetta effimera che si stanno già cadendo le tette per gravità ma che cazzo è sta roba sei uno un bravo padre te lo tiene anche se non ti piace capito perché la responsabilità è per i figli non per la tua figa marcia di merda che l'hai data a tutti ormai ma stiamo scherzando non è un mondo che mi appartiene questo la larga da me ma neanche col pensiero vi voglio vedere maschi donne gay lesbiche non si sa cosa gente che viaggia col punto interrogativo sempre davanti non mi interessa ti scopri un albero una bambola un aereo sono cazzi tuoi io non baso la mia vita sul sesso non ho mai basato la mia vita sul sesso non ho mai tradito una mia compagna non sono mai andato a meretrici chiamiamole così passeggiatrici via ok non ho mai fatto amore mercenario ho sempre se è capitato con qualche amica di lunga data ma perché era la serata e ci siamo divertiti in amicizia non che esco di casa e mi pettino per andare a cercare il primo guanto della sega che cammina capito mi faccio una sega in casa salvo il pudore e posso parlare a faccia aperta con le mie amiche potete chiederlo a chiunque ne conosco centinaia che tipo di signore sono non hanno mai visto un cazzo in chat e non hanno neanche visto una faccia di cazzo in chat che prova a infilarglielo in chat capito questa bombetta logica spero di avervi detto qualcosa qua la batteria se ne va manco mi vedo più a me e c'ho sta sigaretta dall'inizio che è l'ultimo vizio che mi è rimasto raga questo tre anni che non bevo sono 4-5 mesi che non tocco una canna questa la nicotina nicotina li morti loro cioè la coppia fietata è come diabolica è vacchente cioè stanno in casa mia a farsi cazzi loro trombano su di me fanno strage dei miei polmoni minchia non riesco a cacciarli con l'alcol è stato così con quella storia di alcol di Aui vi ho visto cioè ho smesso quel giorno io dal trauma che ho avuto che un mio fratellino figlio nipotino si possa essere trasformato in quel cazzo di mostro che è entrato in casa mia in un paesino di 400 anime a fare non solo figura lui ma farmela fare anche a me come dire minchia giosta che cazzo di gente porta è scolca seppur qua è venuti anche fior fiori di signori dal Salento capito a trovarmi in questo periodo e Werther di Sternatia e gli altri e sono stati invitati a casa di compaesani miei a mangiare mentre di questo mi sono vergognato io che ci ho calcato i palchi per 30 anni ed eravamo culo e camicia veramente ma veramente con Aui proprio oltre a quell'innominabile che non voleva neanche essere ricordato cazzi tuoi i miei ricordi me li tengo cari perché hanno fatto la mia vita quello che sono adesso tu se vuoi continuare a viaggiare per stagnole so cazzi tuoi non ti permettere più di dire che sono un ricognolito dal bere perché sei tu che sei un ricognolito dalle stagnolette ok te l'ho detto vediamo se la smetti di montare biciclette al signor Seu Giosta ok perché io sono un signore e non ti ho fatto un cazzo e sai bene che di te conosco cose che non faccio come te che dici anche cose che non esistono io le tue cose moriranno con me verranno nella tomba con me perché se escono quelle cose non solo ti fichino una schiaffi fuori ma ti ammazzano pure dentro quindi stai muto molto capito non provocare il Satana che è me che tanto anche se lo provochi quelle robe moriranno con me ok perché sono un signore e rimango un fratello anche se è mio fratello mi infama se no che cazzo di fratello sarei questo è il senso della parola fratello capito incazzarti con te stesso perché dici porca troia non lo posso odiare è mio fratello eh ma guarda che te la sta mettendo in culo eh vabbè me lo farò piacere però io sono un fratello ricordatelo questo Marco eh e il nome lo dico e se non vuoi che lo dica vieni qua in Sardegna vieni mi sto aspettando casa mia è sempre aperta lo sai ma vieni buono vieni pulito perché se no non torni a casa ok con pace e bene fratelli che è un ospedale che cazzo è un carcere boh qua abbiamo buon cammino pensa che bel nome per un carcere vieni entra buon cammino no questo è bruttissimo no e l'andà galera fate tutte e due quindi non mi rompete il cazzo che andate a parlare di vita con le cicorie ma che cazzo vuol dire essere stato in galera adesso tutto della vita sai un cazzo della vita sono proprio a voi che avete sbagliato nella vita che dovete stare zitti per primo e guardare chi non ha mai sbagliato nella vita che ha fatto sempre i passi giusti che le persone li rispettano perché sa perché gli sa perché perché non gliel'ha mai messa in culo forse perché se ne è sempre neanche fatta mettere in culo pur di mantenere la pace nel gruppo responsabilità menti ci vogliono qua non de mentis vi voglio bene ai due che sono rimasti a Xeno a Mirko a Ivan tutti quelli che siete qua io vedo solo due non so se sono due o è Marcolino che mi piglia per il culo lui ha algo Billy vi fa un culo così hai capito Zuckerberg Billy il mio Billy la mia compagna a spalla di teatro fa un culo così quando vuole ma voi state a miliardi nel culo che cazzo vi caga avete il mondo in mano Marco hai il mondo in mano ma non hai te pigliati sta psycho bomba e arrivederci a tutti ragazzi ci vediamo dopo mi fumo una siga e lì entro nel bunker Joe Surprise la nave a scellare interstellare me la succate tutti quanti oh veterani B-Boy pionieri muovetevi sveglia sveglia sennò sparitemi dal cazzo ok sono io il B-Boy l'ultimo B-Boy fiero grazie